L'equilibrio della natura, la tecnologia dei ritrovati scientifici più avanzati. Con SimpliZen, la natura si accorda con la scienza per offrire tutte le soluzioni per capelli sane e forti. Una delle cause della caduta dei capelli è la glicazione, un processo che accelera l'invecchiamento mutaneo. La concentrazione del principio attivo agisce svolgendo una potente azione anti-aging e anti-infiammatoria. Il bulbo pilifero è nutrito, i capelli appaiono più vitali e il risultato è un evidente rallentamento della caduta. SimpliZen, l'innovazione scientifica, al servizio della bellezza dei capelli. Grazie. 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 Grazie.